Ecco a voi la terza parte del settimo capitolo della storia Il risveglio dell'oscurità di Tekken 8. Vediamo la nostra reina cosa sta facendo, vediamo come se la cava contro True Devil Kazuya. E' ora di farla finita. Costi quel che costi. Cosa è successo? Non si sa. Tutto bene reina? Tu sei resistente. La barriera di contenimento è già pronta. La barriera di contenimento. Bravo Claudio, devi imprigionarlo. Ma quella è la lancia di Cefalo. Bravissimo Claudio Serafino. No, mancato. Che succede? Claudio cade a terra. Io ho provato a usarti. Questa è la mia posizione. Ormai sono pronto da molto tempo. Tuttavia non mi sacrificherò in vano. Non ti sacrificherai Claudio? C'è un cazzato. C'è un cazzato. Adesso toccati. Oh no. Abbiamo perso anche Claudio Serafino. Come è successo a Onzafina. sei veramente un mostro true devil kazuya era questo ciò che cercavi vero claudio se ne va questo mostriciattolo sono rimasti i nostri protagonisti i nostri amici non mi aspettavo che mi avresti salvato la pelle io vi saluto iscrivetevi al canale mettete un mi piace come sempre come sempre come sempre Grazie.